Hi everyone e ben trovati! Nel video precedente vi ho mostrato come sventrare un Copic. In questo video invece andrò a mostrarvi come utilizzare un Copic. In modo particolare volevo darvi qualche dritta su come colorare la pelle. Solitamente quando si colora una pelle si utilizzano dei colori molto chiari, un sacco di E e W con geli che non finiscono mai e mi sto riferendo alla nomenclatura dei Copic ragazzi. I colori di cui dispongo io sono, arrivo, E00, E02 e 51 ed E53. Sono colori, come potete vedere, già abbastanza scuri e sgargianti per una pelle, però la cosa importante è che sono in gradazione, perché avere degli stessi colori con gradazioni diverse è molto utile per creare sfumature ed effetti efficaci. Vi faccio un esempio, io qua dispongo di uno, due, anzi questo potrebbe essere uguale, uno, due, tre rossi, che sono poi quelli che vedete qua. E questo ci aiuta appunto a creare dei meravigliosi effetti e poi è divertente sfumare i Copic, gente rilassante, sappiatelo. Stessa cosa ovviamente vale per la pelle. Oltre poi alle gradazioni, quando si parla di pelle, è bene tenere a mente dove batte la luce, perché a seconda di dove batte la luce, quella parte illuminata rimarrà bianca. Lasciandola bianca daremo maggiore aria ai colori e naturalmente otterremo un effetto più naturale. Ok, adesso vi andrò a fare un bel esempio pratico. Una cosa che vi consiglio di fare, prima di cominciare a colorare, è mettere sotto il vostro disegno una busta trasparente, in modo tale che l'inchiostro si asciughi dopo e vi permetta conseguentemente di sfumare meglio i vari colori tra di loro. Ok, detto questo, cominciamo! Ciao! 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 Grazie a tutti Musica 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 e ricordatevi il pastello si rivela essere sempre il miglior amico del Copic è una coppiata vincente insomma e ricordatevi ed ecco il disegno terminato come avrete notato che si parli di pelle o di qualsiasi altra parte del disegno ciò che si deve sempre tenere a mente è che il Copic è un gioco di sovrapposizione sperimentate e non abbiate paura dei pennarelli perché loro di noi non ne hanno spero che il video vi sia stato utile e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere neanche una puntata alla prossima Alessandra sarà sempre più bella Alessandra sarà sempre più bella Alessandra sarà sempre più bella perché lei è l'amore la 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 Grazie a tutti.